Oggi siamo qui sul mio desktop per presentarvi il nuovo update di TheXOS Andiamolo a vedere subito Allora, per prima cosa ho rilasciato la nuova versione La 1.2.1.0 Alpha Si dovrebbe essere questa Che per la prima volta vi comunico per rilasciata al pubblico una Alpha La potrete scaricare tutti, link in descrizione Quindi approfittatevene Vi verrà scaricato l'installer di TheXOS Perché ho deciso di introdurre un installer ufficiale Andiamolo ad aprire subito Ho un collegamento al progetto di Visual Studio In cui voi scaricarete un semplice file .exe 20MB Pochissimo praticamente E vi farò un bel setup di TheXOS Potete vedere l'interfaccia minimale, molto semplice E vi garantisco che non contiene virus E che non installa robaccia o roba indesiderata Insomma, non vi rominerà il computer Comunque, questo installer L'ho fatto io col Visual Basic Che ho fatto anche vedere in uno streaming Insieme al mio amico TheVB2010Guy Facciamo un po' quel progettino di come funziona Che probabilmente vi rilascerò prossimamente qui Su canale Adesso andiamo a fare un'installazione di prova di TheXOS Per farvi vedere Andiamo col stante a installa E vuoi installare TheXOS nella cartella di default? Si, mi va benissimo Ok Collegamento sul desktop? Si Nel menu start? Si Stata azione completata A prendere TheXOS Si, apriamolo Andiamo a vedere Subito le novità Devo aggiornare il copyright A proposito Questo verrà aggiornato nei prossimi aggiornamenti Facciamo un login con un utente e una password sicura Un carattere sicurissimo Eccoci qui sul desktop Allora di primo impatto Qui sul desktop non noterete quasi nulla di diverso Sicuramente Però ho aggiunto diverse novità Andiamo un po' a vedere a partire dal desktop La prima novità Sono nuove funzioni aggiunte al pulsante aggiungi Che semplicemente adesso presenta le icone Oltre che ai nomi delle azioni E presenta anche un pulsante aggiungi app Potremmo aggiungere un collegamento A un programma che è presente sul nostro computer Direttamente sul desktop E' come qua E' eseguibile Comunque si intende .exe Ad esempio ho questo programma Fatto da me praticamente eoni fa Fatto con il visual basic Vabbè andiamo a creare un collegamento di prova sul desktop Andiamo a fare riordina Per ricaricare la lista dei contenuti del desktop Ed eccolo qui Significa un file.exe che mi ha aggiunto Facendo doppio click Verrà aperto come un'applicazione in XOS Adesso chiudiamolo Molto bello Ehm Sì vabbè A VG Ok Sono capitato in un piccolo errore Semplicemente Alcuni antivirus Visto che Alcuni miei programmi Non sono dotati di firma di codice Potrebbe riconoscerli come virus Ma vi do la mia parola Ci metterei la faccia Ma non posso Cioè non ci riesco Ecco Che non ho webcam E attrezzatura per registrare Cioè Non sono virus Assolutamente Ve lo giuro Non è virus E' tutta roba sicura Fatta da me col visual basic Ok Andiamo a vedere la prossima novità Ovvero Nel menu delle applicazioni Andiamo ad aprire il menu delle applicazioni Se vuoi dire Il menu delle applicazioni Beh qua ho aggiunto un paio di giochi Il menu dell'applicazione è stato un po' cambiato I cambiamenti che notiamo Sono prima di tutto Il nuovo ordinamento delle icone Delle applicazioni Ecco Dei riquadri Ognuno dedicato a un'applicazione Che sono stati disposti in una griglia La cui distanziamento tra i vari riquadri Viene calcolato in base a Una serie di codici Che ho studiato Poi Abbiamo aggiunto delle nuove applicazioni Le nuove funzioni Per esempio ho aggiunto Raccolta video Che non sarebbe nient'altro che Un'applicazione Fatta a partire dal codice Dalla libreria musicale E che Appunto Non funziona con i file musicali Ma funziona con i video Funzionamento è pressoché identico Solo che cambiano quelle piccole cose Dei video Infatti apre anche lo stesso play Io per esempio vi mostro la mia sigla Ok Benissimo Andiamolo a chiudere Poi se vede Non so se li avete visti però Se avete visto tipo dei numeri Ne riguardo quello è Il contatore FPS di Shadowplay Che Io per registrare Uso Shadowplay con pro Schede video apposta Ah benissimo Adesso andiamo a vedere Qualche altra piccola cosa Per esempio Nuovi comandi nel terminale Oppure la possibilità Per esempio sia nell'app video Che nell'app musica Di cancellare dei file Ovviamente questi non dovranno Essere aperti da nessuna parte Se no L'operazione di cancellamento Non avrà successo Poi Un'altra novità Che possiamo notare Che in informazioni PC Sono stata migliorata un po' Con le informazioni sulla RAM Infatti adesso ci darà Un arrotondamento Dei gigabyte di RAM totali Per esempio Io nella mia macchina Sto montando 12 gigabyte di RAM In questo momento Poi Tutto il resto è rimasto invariato Però sono state cambiate Tipo alcune scritte Per migliore chiarezza Va bene Queste erano le novità principali Del nuovo update di TheXOS Trovate il link Per scaricarlo in descrizione Lo potrete tranquillamente scaricare Dal mio account L'ho caricato sul mio account Di Dropbox Penso che vi darò direttamente Il link diretto In questo modo Potrete scaricarlo Senza alcun problema Va bene ragazzi Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti 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 Ciao a tutti